Ciao, sono Luca e in questo video vedremo un po' la paura infondata che tutti hanno quando si approcciano al discorso allenamento oppure sono già in fase di allenamento. La paura, ancora una volta per andare subito al dunque perché non mi piacciono i preliminari, è sempre il discorso del perdere massa muscolare nel momento in cui io smetto di allenarmi. C'è questo terrore che è peggio un po' della peste nel 1300, per cui nel momento in cui io smetto di allenarmi perdo massa muscolare in maniera importante. Tutto questo è dovuto un po' all'inganno nel quale tutti quanti cadiamo nel momento in cui pensiamo che il muscolo cresca mentre mi alleno. L'inganno è dovuto al fatto che nel momento in cui io mi alleno e sento un buon pompaggio, si spera, ho un po' la percezione più o meno inconsciamente che il muscolo sia più ipertrofico in quel momento lì. In realtà è un'ipertrofia transitoria, si chiama più o meno così nella letteratura scientifica, perché ovviamente è tutto un discorso transitorio per l'appunto, perché in realtà in quel momento lì stai creando delle microaccelerazioni quindi rendendo paradossalmente il muscolo più debole. È a riposo che il muscolo cresce e sicuramente la paura di perdere è infondata, tanto più se riposi qualche giorno o una settimana. Come già spiegato in altri video, comunque anche nel momento in cui tu vada a perdere il muscolo mantiene, e su questo più o meno tutti sono concordi, una certa memoria muscolare, quindi dopo poi riprendi e recuperi più velocemente. Quindi per una volta la buona notizia è che tu perdi con una velocità che è la metà rispetto a quella con la quale hai aumentato la massa, quindi se ci hai messo un mese a raggiungere un obiettivo, ci metterai due mesi a perdere quell'obiettivo, è un'ottima notizia. E poi dopo i recuperi, quindi riprendi e allenarti molto più velocemente, sempre per un discorso di spravvivenza, il corpo recupera, quindi la massa muscolare aumenta più velocemente, grazie al discorso memoria muscolare, che più o meno è sulla quale tutti quanti più o meno concordano. Quindi puoi stare tranquillo e ripeto, tutto questo è dovuto all'inganno, per quel momento in cui mi alleno io mi sento molto più pompato, ma è un discorso transitorio e in realtà il muscolo lo sto rendendo molto più debole. Addirittura se tu vedi, molto spesso può capitare che se riposi qualche giorno in più, ti senti anche più in realtà pompato, perché il muscolo per l'appunto recupera e cresce, non solo di notte, ma anche fra una sessione e l'altra. Quindi è molto importante non perdere questa consapevolezza, altrimenti si rischia veramente di farsi un po' ingannare dopo allenarsi fin troppo e comunque avere sempre questa ansia per cui se perdo una sessione, oh mio Dio, in realtà no, il muscolo riposa, il corpo riposa, cresce, quindi vai tranquillo, problemi zero e ripeto, ricordati anche che se anche dovessi perdere, e comunque si parla da un mese di riposo in poi, non se fai una settimana o 10 giorni, perdi comunque sempre con una velocità che è la metà rispetto a quella con la quale hai raggiunto l'obiettivo. Quindi se hai, ripeto, se ci hai messo un mese, perdi in due mesi, dopo ricoprivi molto più velocemente. Quindi vai tranquillo, riposo vitale e molto spesso, per concludere tra l'altro, se fatichi a vedere i risultati o sei in una fase di stallo, la cosa migliore non è rendere il tutto più intenso, ma ancora prima di farlo, il mio suggerimento è di riposare. Fai una, due settimane o addirittura un mese dove il corpo recupera completamente e dopo aumenti l'intensità, per appunto l'intensità, non i carichi necessariamente, ma l'intensità per avere migliori risultati. Quindi questo è un po' il video di oggi, te le mando come sempre al mio paradigma autoconsapevolezza e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.